Dopo cinque giorni di ondate di calore persistente e di fronte ad uno stato di siccità che sta incidendo sulla portata delle acque superficiali dei bacini della provincia, sono scattate ordinanze comunali anti spreco d'acqua a Pesaro e Fano emesse dai sindaci Biancani e Serfilippi. Ordinanze che salvo contro ordine resteranno in vigore fino al 30 settembre. Quasi due mesi in cui viene vietato il prelievo e il consumo d'acqua del pubblico acquedotto per azioni quali lavaggio di cortili o piazzali, lavaggio privato di veicoli, riempimento di fontane ornamentali o piscine private salvo quelle legate ad attività economiche, turistiche o sportive nonché uso diverso da quello alimentare, domestico per l'igiene personale e per l'abbeveraggio di animali. A Pesaro per quel che riguarda l'irrigazione e annaffiatura di orti e giardini questa sarà consentita soltanto il lunedì, il mercoledì e il venerdì fra le 22 e le 7 di mattina. Chi trasgredisce rischia una multa da 25 a 500 euro. Un'ordinanza per il consumo responsabile d'acqua che contemplerà anche le quattro docce che saranno installate in altrettante spiagge libere con sistema frangigetto che consentirà il risparmio del 50 per cento d'acqua erogata. Oggi lo stesso Biancani ha preso parte all'installazione della prima doccia nell'appena inaugurata spiaggia di Baia Flaminia dedicata ai cani e ai loro padroni intitolata a Baia Flaminia. Riattivate anche le docce presenti nei pressi del locale chiosco della stessa Baia Flaminia mentre altre due docce saranno collocate in altrettanti tratti di spiaggia libera di sottomonte.